Il volo degli aeroni, i pini secolari, il verde che incrocia l'azzurro del cielo. Il canale dei pescatori di Ostia è immerso nella riserva statale del litorale romano. Eppure lo stato di degrado del fondale del canale, ma non soltanto, è evidente anche dalla strada. Specialmente nel tratto in cui è attraversato dal ponte che porta verso viale della villa di Plinio. L'acqua è poca, i detriti e i rifiuti sono tanti. Fango, ramaglie, gomme di auto, resti di barche abbandonate e distrutte dal tempo. Da molti anni, come spiegano i lavoratori della Darsena di Castelfusano, non vengono effettuati lavori di pulizia e bonifica profondi, necessari al funzionamento e alla fruibilità del canale dei pescatori. Evidente in particolare il degrado della sponda prospicente via dei pescatori, con scalette di ferro arrugginito abusive, barche affondate e verde incolto. Sono più di 20 anni, hanno pulito una volta solo e poi non hanno fatto più niente. Ci stanno poi queste carcasse qui, che si sono ammucchiate, che hanno abbandonato, le hanno lasciate qui e non si sa neanche di chi so. Se la vintano tutti quanti, se vengono a prendere la barca, non gliela fanno uscire, oppure rimangono dentro al canale, rientrano, non gliela fanno ormeggiare. Un'immagine che non aiuta ossia il suo turismo e soprattutto rende difficile la vita ai piccoli diportisti e pescatori della darsena autorizzata sul lato della tenuta di Casselfusano, ricadente nella tenuta dei Chigi. Passare sotto al ponte è ormai un'impresa. Sotto le due arcate che sorreggono il ponte, il fondale è occupato, quasi fino alla superficie, da vari rifiuti e detriti accatastati. Il passaggio per un'imbarcazione che abbia un pescaggio oltre 20 cm è ormai praticamente impossibile. Ha il suo mezzo, in particolare ci ha spiegato un gommone ormeggiato qui nel canale dei pescatori, ma qual è la condizione del canale attualmente? La condizione attualmente è critica. Il problema è che sotto i ponti ci sono numerosi detriti, numerose rocce, rifiuti, gomme che ostacolano il passaggio e mi sembra veramente una situazione imbarazzante che per uscire uno deve fare i salti mortali solo per arrivare a mare. Dovrebbe essere secondo me messo in condizioni perlomeno accettabili per poter uscire in condizioni totali di sicurezza. La situazione secondo di portisti e cittadini è giunta al limite e chiedono l'intervento immediato delle istituzioni, in primis del municipio 10 di Roma, soprattutto in vista dell'estate.